Nel video di oggi vediamo come dare un effetto psichedelico ad una nostra foto con Affinity Photo. Ho già aperto una foto all'interno del programma e ora dobbiamo andare sui nostri livelli di regolazione che in genere si trovano qui a sinistra della scheda di livelli. Questo effetto io riesco a ottenerlo grazie alla mappa sfumatura che trovo qui sotto. Ci clicco sopra e vedete che ho già delle opzioni, un predefinito, un ultraviolet e un nuclear. Ora clicco su predefinita e vediamo che effetto che ho ottenuto. Vedete che qua ho una barra con diverse sfumature di colore. Io queste sfumature le posso modificare. Non solo ad esempio posso prendere questa sfumatura verde e trascinarla e vedete che già mi si modifica la mia foto, però posso modificarli questi colori. Io ad esempio questo verde da qui, da colore, posso andare a trasformarlo, non lo so, in un giallo con la mia ruota colore e quindi vedete che ho cambiato ulteriormente l'aspetto della mia foto. Facciamolo di un giallo un po' più forte. Io posso aggiungere dei colori. Ad esempio, cliccando qui sulla barra, clicco, vedete che aggiungo un punto e a questo punto posso di nuovo modificarlo e farlo del colore che preferisco. Quindi vedete, ora ne aggiungo magari uno anche qui, vedete che posso veramente sbizzarrirmi sugli effetti che posso ottenere grazie a questa mappa sfumatura. Se ho ad esempio aggiunto un colore che non mi piace o ho cambiato idea, basta che clicco sul colore che voglio eliminare, ad esempio voglio eliminare questo giallo, e clicco qui su elimina. E in questo modo vedete che ho eliminato il giallo. Se questo video vi è stato utile, vi invito a lasciare un mi piace o iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!